rieccola ari buongiorno allora niente oggi partiamo con l'assemblaggio del bocciolo allora la prima cosa che dovete fare vedete io qua ho i quattro boccioli fatti e le due foglioline e accorciare le e non fa la messa a fuoco madonna se l'odio le cornine qua ok queste cornine qua le tagliate così signor così e l'ultima poi chiaramente andate un po a bruciacchiare che non si sfilacci il raso io c'ho un lanciafiamme non accendino perché non troppo in meccanino piccole quindi niente lo faccio con questo l'importante che bruciacchiate i bordi perché sono poi si sfilaccia ok poi pistola della colla a caldo prendete il petalino la parte arrotolata va esternamente poi prendete la colla a caldo ok tac pinzettina e lo girate lo chiudete bene bene su se stesso così deve uscirvi una farina così ok lasciate pure dentro la pinza non vi preoccupate devo aggiungere con la caldo perché l'ho finita ok poi prendete un altro petalino che faccio cadere il telefono perché non ce la posso fare io a fare le cose fatte bene se no non sono più io stai fermo lì anche questo colla a caldo dove ho messo quello che ho fatto lo incollate a quello che avete già fatto ma leggermente spostato ok altro petalino io ne ho perso uno adesso non vi posso più finire il tutorial noi qua mi stava già vendendo un infarto altro petalino altro petalino altra colla a caldo vi spostate ulteriormente questa volta un po' di più e chiudete magari se mi metto un po' più lontano mi fa sta benedetta messaggio ok ultimo petalino colla a caldo e lo mettete dalla parte opposta codi tiratevi l'affare date un po' la forma vedete che il bocciolino è fatto poi cosa facciamo prendiamo le nostre foglioline ok tagliate via la punta chiusa dove ho messo il bocciolino qua scusate ma con la videocamera davanti agli occhi non vedo niente mettete un po' di colla intorno al bocciolino aprite la fogliolina e zaccate lo tirate su e glielo infilate così vedete vedete tac poi prendete l'accendino non vi bruciate le dita come faccio io bruciacchiate solo il fondo perché non si sfilaccia poi prendete l'altro bocciolino faccio essere messo a fuoco sto odiando questo tutorial perché vennerà bruttissimo ma voi siete intelligenti quindi lo capirete lo stesso e lo mettete un po' più in là così però questa volta la lasciate la punta perché vi servirà a chiudere il bocciolino vedete ne abbiamo una fogliolina qua una là e il nostro bocciolino è fatto adesso io purtroppo ho una videocamera che non mi permette di farvi vedere meglio il lavoro però spero di essermi spiegata ciao ciao a lì